Ciao a tutti e a Giosi, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi andiamo ad aprire i miei autoregali di compleanno. Io ogni anno mi faccio degli autoregali. Quest'anno non volevo neanche farmeli perché, come vi ho detto, il 2022 non è partito bene e sicuramente so benissimo che non sarà un buon anno. Però poi alla fine c'era lo sconto del 20% su Pinalli perché per il mese del compleanno vi danno lo sconto del 20% più c'erano altri sconti. Ho detto, vabbè, dai, compriamo qualcosa e ho comprato queste cose qua. Allora, che cosa ho comprato? Come vedete ho già aperto tutto per velocizzare un po' il video. Ho preso questo cofanetto che come vedete è natalizio perché appunto ci sono gli sconti, più il 20% che ho avuto. Troppa fantasia non c'è perché chi mi conosce sa benissimo che io amo il profumo di Lancoma che è Idol. E lo riprese, me lo sono ripresa, ecco. Allora, è nel formato da 50 ml ed è uno dei miei profumi preferiti. In questo momento, se devo dire la verità, invece sto usando Poisson di Dior, che sono altri Dior, diciamo alcuni profumi che a me piacciono come già Dior e appunto Poisson Lipnose. Comunque, ho preso questo profumo, questo Eau de Parfum di Lancome Idol da 50 ml, poi nel cofanetto c'era questa crema per il corpo da 50 ml, sempre ovviamente della stessa fragranza, e poi un mini mascara che non so se ricordate abbiamo trovato nel calendario dell'avvento ed ero contentissima perché non l'avevo ancora provato. Allora, vi vado a leggere, io non so descrivervi il profumo, vi vado a leggere le note di questo profumo. Allora, note di testa, pergamotto e pera, note di cuore, rosa turca, rosa di maggio, gelsomino indiano, note di fondo, muschio bianco e vaniglia. Ok, bello leggere, però raga, è inutile che mi dite, io vi dico mi piace, non mi piace, lo capisco se è floreale, se è legnoso, però è inutile che vi vada a dire le note perché non le conosco. Poi ho preso di Bulgari, non ho trovato purtroppo la crema per il corpo, Omnia, nella versione Crystal Line, perché comunque ci sono varie versioni di quest'altra fragranza che invece non è un eau de parfum, ma è un eau de toilette da 40 ml. Il pack è bellissimo, è questo qua, e vi vado a leggere anche qua le note. Allora, testa, bambù, cuore, loto, fondo, legno, di balsa, tipo di profumo, profumi fioriti e profumi legnosi. Ok, questo è un altro, questo è il mio profumo estivo, se devo dire la verità. Allora, entusiasmo, comunque mi sono dimenticata di ringraziarvi, grazie a chi mi sta seguendo. Allora, poi ho voluto prendere questa piccola, ma proprio piccola palettina, ma è di Dior, è una palette in edizione limitata, ed è ispirata alla primavera. Insomma, quindi è già uscita, sempre nella sua custodia nera, loro usano sempre queste custodie. È nella colorazione 883 Mineral Rose. Allora, ve la mostro. È piccolina, eh, non è niente di che, però volevo un po' di make-up, dico un po' di make-up, non guasta mai. Eccola qua, io la trovo bellissima, cioè nel senso che è adatta al mio incarnato, ecco. Ecco qua, anche questa con lo sconto del 20%, quindi ricordatevi, quando acquistate su Pinalli, mettete la vostra data di nascita, perché durante il mese del vostro compleanno potete acquistare quello che vi pare, è solo con un acquisto, 20%. Allora, poi ho comprato, dico, ma non regali di compleanno, però siccome li ho visti, ho detto, ok, prendili. Allora, io quest'estate ho preso questo, ma proprio per, quasi per gioco, perché appunto era, sembra estivo nel pack, ma mi è piaciuto un casino. È un sapone per le mani, da 300 ml, ed è contenuto in questa pochettina. Poi ho trovato questa, che è un'altra delle profumazioni che io non conoscevo, non conosco ancora. Nel caso specifico, invece, è un doccia schiuma delicato, è tutto vegano, senza parabeni, petrolati, siliconi e coloranti, e sono 200 ml, e questi sono prodotti made in Italy, questi qua che sono nella pochettina. All'interno della pochettina c'era anche questo pettine arancione, che cambiava colore rispetto appunto alla pochette stessa. Poi ho voluto inferire, e ho preso, ovviamente non è che sono questi regali di compleanno, questi sono extra, che dico, hai lo sconto del 20%, più gli sconti che già c'erano, e ne ho approfittato. Ho preso sempre la stessa cosa, come vedete, solo che ci sono più prodottini. Allora, c'è una crema per le mani, fitocosmetica ed emoliente, di Witsy, che appunto è il brand, non lo so, da 75 ml, quindi questa dovrebbe avere la profumazione del mio sapone per le mani, insomma, che ho acquistato quest'estate e mi è piaciuto. E poi ci sono le altre due profumazioni che non conosco. In questo caso è un dolce a schiuma delicato da 200 ml, questa qua è l'altra versione che io non ho mai provato, ma probabilmente mi piacerà anche. Poi, sempre dell'altra profumazione ancora, un dolce a schiuma delicato, perché Witsy ha tutte queste tre profumazioni. E poi, ovviamente, c'è il solito sapone per le mani, che io amo, e sono 300 ml, soprattutto d'estate, che è carino con questa stella marina, vabbè, ok. Allora, ho finito, però mi hanno omaggiato di una serie di cose, che vi faccio vedere, per la ragione che voi conoscete. A volte troviamo qualcosina nei calendari, nelle box. Allora, questa è una... è un sample di Gerastase, è una maschera, vabbè, e si capisce che è un sample. Andiamo avanti. Poi mi hanno omaggiato di questo qua, che nei calendari girava, non so se vi ricordate. È un profumo di Narciso Rodriguez. Sì, è un profumo, ok, credo fosse uno dei toilette. Non so se è da collezione, sapete che ancora questo non l'ho neanche aperto? C'è talmente tanto l'entusiasmo. E il mio compleanno è già passato, intanto che arriverà sto video. Ok, va bene, la collezione ci sta. Se poi mi piace lo userò, perché, diciamo, non è tanto collezionoso. Bellissimo, collezionoso. Allora, poi c'è un sample di J'adore, di Dior, che io amo. Dico, questi li regali li fanno, ecco. Poi c'è una crema per il giorno, sì. No, dei, sì. Per il giorno. È un anti-age di Sisley. Vedete, è un campioncino. Ma noi sti campioncini, quante volte li abbiamo trovati? Allora, e poi vi faccio notare una cosa. Ancora cose ci sono. Allora, se noi troviamo questo in un calendario o in una box, che diciamo? Che è una mini size. Loro vi dicono che non è una mini size. È di mesauda. Ed è vietata la vendita. Quindi c'è questo piccolo prodotto per le labbra, ma buttato dentro così, in una box, in un calendario, lo so che sembro maligna in questo momento, ma è veramente per farci notare che a volte, insomma, diciamo mini size, ma prima dobbiamo vedere bene se è una mini size. Sicuramente, dico, sono stati abbastanza carini. Allora, poi ho trovato un latte, cos'è? Un latte per rimuovere il make-up da 30 ml di Joway. Non lo so, io non ho mai visto sto brand, però sicuramente gradito. Dico, Pinalli forse è l'unico sito italiano che dà degli omaggi. Allora, della Collistar. C'è un'acqua micellare delicata da 35 ml. Ditemi voi, io non dico più niente. E qua non c'è scritto neanche che è un campioncino, quindi a volte ci inganniamo e diciamo mini size. Ok, credo che non ci sia più nulla. Ok, ho finito. Un altro regalino, se devo dire la verità, me lo sono fatta da Calti Beauty, è una beauty box in edizione limitata che presenterò normalmente come se fosse normale. Anche perché, dico, il mio compleanno quest'anno io non l'ho neanche festeggiato. Quindi, insomma, va bene così. Allora, grazie di cuore, se non l'ho detto all'inizio. A chi mi supporta e mi sopporta. Grazie. Grazie per le visualizzazioni, grazie per l'incoraggiamento, grazie per i commenti. Perché senza di voi, raga, io avrei stoppato da un pezzo. E invece sono ancora qua. E appunto, avendo dei problemi molto gravi, non personali, cioè sulla mia persona, ma che si ripercuotono ovviamente su di me, mi fanno e sto male, questo piccolo angolo molto, appunto, amatoriale, per me è un po' una distrazione, un po' fuggire da quella che è la realtà, che non è molto bella. Quindi questa volta il ringraziamento è proprio enorme. Grazie, grazie mille. Ciao ciao, un bacio.